Ciao ragazzi, io mi chiamo Francesco e benvenuti al primo episodio su il tutorial di pittura. Allora, oggi non vedremo nessuna tecnica, mi piacerebbe iniziare con proprio la base, cioè gli strumenti da utilizzare per dipingere le nostre miniature. Lo strumento più importante di tutti, a mio avviso, è il pennello. Senza un buon pennello non si può fare niente. Adesso io utilizzo tutto materiale Cittadel, che è facilmente reperibile in loro sito internet o in qualsiasi negozio di hobbysti. Partiamo dai pennelli, ci sono vari pennelli per ogni tipologia di tecnica di pittura. La Cittadel ha creato uno per la base, uno per i layer, quindi per ogni strato di lumeggiatura, i pennelli per le lavature, quindi per gli inchiostri, e i pennelli per la tecnica del pennello asciutto. Quello che vi consiglio io di utilizzare sono di prendere almeno una taglia S, M e L, e volendo più avanti anche una XS, di pennelli tra il base e il layer. Adesso li ho trovati molto utili al vero, magari un pennello grosso per la base e i tre pennelli di misura piccola, media, con il layer. In particolare i pennelli Cittadel hanno delle setole che sono molto buone, adesso io li ho rovinati tutti, ma questi per quanto riguarda, per stendere il colore. Per quanto riguarda gli inchiostri, che adesso dopo vi spiegherò il vario schema di colore Cittadel, si utilizza un pennello con un serbatoio, che è questa parte qui del pennello, abbastanza largo, dove verranno steso tutti gli inchiostri. E dopodiché ci sono i pennelli a setola larga, che sono quelli per il dry. Vi consiglio di prendervi tutte e tre le taglie se potete, se no io all'inizio mi sono sempre trovato bene tra una S e una L. E' importante comunque capire qual è la zona che si utilizza nel pennello, anche magari potrebbe essere scontato. La parte della setola, poi c'è una parte in metallo che serve per comunque tenere unite le setole e proteggere il pennello, e la parte in legno dove va impugnata. L'importante, per non distruggere i vostri pennelli e farli durare molto, è che quando viene prelevato il colore, venga prelevato non oltre questa linea, cioè che non vada a finire oltre il metallo, perché il colore potrebbe finire all'interno, seccare le setole e poi creare l'effetto tipo paglia. E dovreste buttare un pennello, anche perché questi costano più di 14€ l'uno. Cos'altro vi può servire? Vi può servire sicuramente delle tazze d'acqua, che il colore va sempre diluito prima di stenderlo sulla miniatura, per non avere dei grumi o non far notare la pennellata, che è brutto a vedersi. Quindi io ad esempio ne utilizzo delle tazze, potete mettere un bicchiere di plastica, qualsiasi cosa che più vi aggrada. Io ne utilizzo sempre due, anche perché in uno ci lavo il pennello col colore, nel colore neutro, normale, mentre nell'altro io la utilizzo per i colori metallici. Perché mischiandoli comunque il pennello a volte rimane del residuo ed è brutto vedere dei pigmenti metallici mischiati. Ovviamente lo scottex per pulire il vostro pennello e io vi consiglio, esistono delle carte apposta, dove stendere un piattino o qualsiasi cosa, anche un piattino di ceramica che poi lavate, però io vi consiglio per mantenere sempre il colore fresco, una paletta umida. Adesso le vendono già di qualsiasi tipo e con la loro carta. Quello che vi posso consigliare, che io l'ho fatto con una scatolina che avevo di rimanenza, è di prendere un qualsiasi tipo tupperware o scatoletta, mettere una spugna, come ho fatto io, ritagliarla e tenerla bagnata. Sopra applicare una carta, potete usare anche la carta da forno, l'importante è che dopo un po' la cambiate, perché potrebbe lasciare i peletti. Sono a utilizzare la carta artistica fatta apposta per la pittura. In questa maniera il colore rimane sempre bello umido e non si asciuga, quindi ogni volta potete anche ripassarlo senza sprecare un gran numero di colori. Si richiude la scatoletta, quindi l'umidità rimane all'interno e tiene sempre bagnato il colore. Ovviamente la base è importantissima per non rovinare i vostri tavoli, va bene anche la carta di giornale, qualsiasi cosa, l'importante è che proteggiate la vostra schivania, il vostro tavolo. Io passerai ai colori, così vi faccio notare nella scala della cittadella. Allora, come insegna la cittadella? Loro ci consigliano di utilizzare sempre un colore chiamato base. Il colore base ha un pigmento molto più forte, molto più carico, in modo tale che alla prima stesura copre già la vostra miniatura. Quindi lo schema di colore che consiglia la cittadella è una base, questo colore carico, dopodiché ci invita ad usare una lavatura. La lavatura è un inchiostro, quindi andrà nei recessi della miniatura, cioè nelle scanalature, per far risaltare i dettagli del modello. Dopodiché, dopo la lavatura, che ovviamente ci vuole il suo tempo per asciugarsi, consiglia diversi strati, quindi le chiama lumeggiature, da un colore più scuro a un colore più chiaro. Ad esempio, per avere un bel giallo, il schema cittadella è la base, due layer, e poi se uno vuole, il colpo di luce finale, quindi per risaltare proprio la luce del modello, con l'ultimo colore. Se no potete fermarvi anche a questi due colori qui. Per iniziare, io vi consiglio, per prenderci la mano, almeno la base e la lavatura, che vedrete che già avrete un modello comunque pronto per giocare a un gioco da tavolo. Non ha un grandissimo livello, ma comunque è piacevole vedere un modello, almeno dipinto, non in questa versione qua. Una cosa, una premessa che mi ero scordato, prima di dare la base, quello che consiglia, sia io che la GV, che vi aiuterà moltissimo, e dare una base spray a tutto il modello. Sono delle bombolette che vende la cittadella, è importante darvelo, ci sono di mille colori diversi, io mi sono trovato benissimo con la base a Zandridash, perché posso arrivare a qualsiasi tonalità di colore. Vi consiglio anche questo strumento qua, serve per tenere le vostre miniature. Questo vi aiuta, sicuramente per non sporcarvi le mani, perché avrete le mani costantemente piene di colori. E in particolare per non maneggiare sempre la miniatura con le mani, e quindi andare magari a togliere il colore, in questa maniera qua, o sporcandovi le mani, come vi ho detto. Questo è sempre, della cittadella hanno creati, vedete, c'ha due molle, quindi c'ha varie scale di modello, dal più piccolo, a una miniatura media. Questo è quello che io vi consiglio di comprare, o comunque procurarvi, per iniziare a dipingere le vostre miniature del giocolo da tavolo. Ovviamente io sono aperto a qualsiasi domanda voi vogliate farmi, cercherò di lasciarvi ogni link possibile, diretto, per portarvi al negozio, per andare a comprarli. Mi volete chiedere qualsiasi cosa, scrivete pure nei commenti, e io sono a vostra disposizione. Con questo vi saluto, vi ringrazio per aver visto il nostro video, e ci vediamo alla prossima, magari con una tecnica di penitura.